Ciao a tutti, sono Barbara Montruccoli dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi parleremo della costruzione del corpo. Dopo aver visto il video vi ricordiamo di partecipare al gruppo Facebook per far correggere i vostri lavori dagli insegnanti e a seguire, al termine della sessione, i live su Zoom per i consigli finali. Iniziamo andando ad analizzare come si calcola l'altezza dei nostri personaggi. Dovete calcolare che nel disegno manga l'altezza dei personaggi si calcola il numero di teste. Ad esempio, se volessi disegnare un personaggio alto 1,80 m, lo dovrei disegnare alto 8 teste. Se invece avessi volo disegnare un personaggio alto 1,50 m, lo avrei dovuto disegnare alto 5 teste. Quindi, come faccio a disegnare un personaggio alto 1,80 m? La prima cosa che dovrò fare sarà andare a disegnare la sua testa, che sarà poi divisa da una linea verticale e andrò a riportare su questa linea la sua testa per altre 7 volte. Se avessi voluto disegnare invece un personaggio alto ad esempio 1,70 m, avrei riportato la misura della testa per altre 6 volte 1,70 m quindi coincide con 7 teste. Quindi traccio una linea verticale che divide la testa a metà e riporto la testa per altre 6 volte in modo tale da ottenere 7 fasce. Ma se io volessi ad esempio disegnare un personaggio alto 1,65 m cosa avrei dovuto fare? in questo caso le teste da calcolare sarebbero state 6,50 m, quindi dopo aver disegnato 7 fasce avrei preso la settima fascia e l'avrei divisa a metà, calcellando la porzione più bassa in modo tale da ottenere 6 fasce e mezzo. Allora, esistono due modi per approcciarsi al disegno del corpo umano. Il primo metodo, un po' più lungo e complesso, si affronta nel dettaglio durante i corsi. Oggi invece analizzeremo insieme il metodo un po' più veloce che si basa sulla divisione del corpo in due metà. Segniamo a questo punto la testa e una linea che la divide verticalmente a metà. A questo punto segniamo un punto che corrisponderà alla metà del nostro corpo e riportiamo la misura dalla metà alla fine della testa, al di sotto della linea di metà corpo. Aiutatevi calcolando la misura con l'indice e il pollice, mi raccomando non utilizzate il righello. In questo modo avremo l'altezza totale del nostro corpo scandito dalla linea di metà corpo. Mi raccomando questa linea è fondamentale perché corrisponde al bacino, quindi nella parte superiore del corpo dovremo disegnare tutto ciò che si trova sul bacino e nella parte inferiore tutto ciò che si trova al di sotto. Prima di procedere a disegnare quindi, ricontrollate che la parte A sia perfettamente uguale alla parte A1 e procediamo adesso a disegnare la parte superiore del nostro corpo. Allora, siccome stiamo disegnando un uomo, negli uomini le spalle sono abbastanza larghe e corrispondono circa a tre teste, quindi dobbiamo prendere la misura della larghezza della testa e riportarla per altre due volte. Segniamo poi la larghezza e portiamola fino alla linea di metà del corpo. procediamo adesso quindi disegnando le spalle, mi raccomando le spalle come tutte le altre giunture mobili devono essere disegnate con dei cerchietti e procediamo poi disegnando la cassa toracica e il bacino. Nel caso dei ragazzi il bacino si tende a fare un pochino più stretto rispetto a quello delle ragazze. Procediamo adesso disegnando le gambe e le ginocchia si trovano leggermente sopra la metà di A1 e poi disegniamo i piedi. Ovviamente sia la ginocchia sia le capiglie devono essere disegnati con dei cerchietti. Un altro dettaglio fondamentale sono la grandezza delle mani e dei piedi, entrambi devono essere grandi, sicuramente più grandi di come viene spontaneo disegnarli all'inizio. Calcolate che le mani sono grandi circa come metà delle cosce. Ora che abbiamo finito il corpo maschile procediamo disegnando un corpo femminile. Ho disegnato la testa, ho disegnato una linea verticale e sto riportando la misura che va dall'inizio della testa alla linea di metà del corpo al di sotto della linea di metà del corpo in modo tale che sono sicura di avere la parte A uguale alla parte A1. Bene, a questo punto che mi sono assicurata che le due parti siano uguali, procedo disegnando lo stickman della ragazza. Quindi la prima cosa da fare è andare sicuramente a disegnare subito il collo per poi procedere con le spalle. Le ragazze, al contrario dei ragazzi, hanno le spalle un po' più piccoline. Infatti non misurano tre teste, bensì ne misurano due. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere metà della testa, della larghezza della testa e riportarla una a sinistra e una a destra della testa. Una volta che avrò quindi tracciato questa larghezza, la riporto fino alla linea di metà del corpo perché, come per i ragazzi, anche questa ci servirà per andare a disegnare bene i fianchi. Procedo a questo punto continuando a disegnare le spalle e la gabbia torace. Mi raccomando, quando disegnate il corpo delle ragazze, ricordatevi che ricorda la forma di una clestidia. Quindi stringetelo sulla vita e allargatelo sui fianchi. I fianchi sono larghi quanto le spalle. Procediamo con le gambe. Anche in questo caso le ginocchia sono leggermente sopra la metà di A1. Nel caso delle ragazze si deve posizionare le ginocchia anche un pochettino più in alto per dare l'idea che le gambe siano più slanciate. disegnate piedi grandi e le maniche stese arrivano a metà delle cosce. Ora che abbiamo disegnato gli stickman entrambi i personaggi possiamo procedere con il disegnare i volumi sopra gli scheletri. In questo caso, mi raccomando, per segnarli potete o andare a segnare direttamente sopra lo stickman oppure prendere un foglio e posizionarlo sopra a quello dello stickman in modo tale da non confondere troppo le linee. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per disegnare il seno frontale un consiglio è quello di disegnare un cuore rovesciato che parte dalla base del collo e arriva un po' sopra rispetto alla vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.